Dopo mesi di chiusura netta con le ipotesi ricapitalizzazione sempre respinta, il Comune di Salerno decide di puntare su un possibile seppur estremo tentativo di salvataggio della CSTP, dicendosi disponibile a riconsiderare l'impegno economico dell'ente seppur a determinate condizioni. La posizione del Comune è stata già definita a valle del famoso deposito della quantificazione della sentenza della causa al Consiglio di Stato contro la Regione, perché lì sono stati definiti circa 5 milioni di euro, poche migliaia di euro in meno e quindi è un'entrata importante, non prevista anche se auspicata, che ha sicuramente fatto variare le condizioni di bilancio. Quindi noi già a suo tempo abbiamo chiesto di conoscere i numeri aggiornati, direi al 30 settembre, al 30 ottobre, per avere un quadro chiaro delle necessità di ricapitalizzazione sia al 30 ottobre, insomma quando sia il momento della data, sia entro la fine dell'anno. Questo perché il Comune non intende sottrarsi alle proprie responsabilità se i numeri come noi ospichiamo siano accettabili, quindi se ci muoviamo su una cifra al di sotto di 3 milioni di euro, ovviamente noi potremmo prendere in considerazione anche ipotesi di ricapitalizzazione. È chiaro che però finché questi numeri non vengono fuori e finché le cifre di cui si sente parlare sono ancora 4, 5, 6 milioni di euro, ovviamente le condizioni restano le stesse che hanno avviato questo percorso. Quindi noi a più riprese abbiamo chiesto informalmente, la settimana prossima lo faremo anche formalmente, vogliamo conoscere questi numeri e su questo vorremmo esprimere un giudizio definitivo.